Non dobbiamo rassegnarci al degrado di Roma o del resto dell'Italia e a questo mira proprio la campagna, eccola qui, blocca degrado, hashtag blocca degrado, una campagna del lance che vuole proprio favorire l'impresa di coscienza di ognuno di noi su quello che possiamo fare per le nostre città e per qualunque altro posto. Non dobbiamo far sì che i posti interessanti della nostra bellissima Italia, i luoghi pubblici, i luoghi di interesse pasergistico, i luoghi di interesse turistico diventino delle discariche o siano abbandonati. Che cosa possiamo fare? Per esempio partecipare a questa campagna e segnalare proprio sul sito del lance, sul sito di questa campagna blocca degrado, tutti i luoghi che a noi paiono interessanti, degni di essere salvati e riportati al loro splendore. Come potete farlo? Potete fare una fotografia, fare un video, scrivete, insomma segnalate e create un movimento di interesse intorno a queste zone abbandonate. Poi se volete potete anche scaricare un kit, uno degli elementi interessanti è proprio questa fascia che peraltro è biodegradabile, tutte cose ecologiche, con cui potete segnalare con questo nastro, proprio le zone dove non ci sono lavori in corso, quindi nulla si sta facendo per migliorare la qualità di questi luoghi che ci stanno tanto a cuore.